La motogp Argentina 2018, programmazione TV, orari su Sky e TV8 La motogp torna nel weekend compreso dal 6 all 8 aprile 2018 per la seconda gara stagionale. . Dopo l'esordio in Qatar, avvenuto prima della pausa pasquale, il circuito si sposta in Argentina per il Gran Premio in programma a Termas de Riondo. Andrea Dovizioso, vincitore della prima gara, conduce la classifica dei piloti con 25 punti, seguito da Marc Marquez con 22 punti e da Valentino Rossi con 20. Il dottore è salito sul podio nelle ultime tre edizioni, primo nel 2015 e secondo sia nel 2016 e 2017, anno in cui la Yamaha è riuscita a portare a termine una incredibile doppietta. . Gli appassionati di cancelletto moto potranno seguire la gara in diretta sia su Sky Sport Motogp che sul canale Inchiaro TV8, scopriamo di seguito in quale modalità. Orari TV Motogp Argentina 2018, la programmazione su Sky. Il canale Sky Sport Motogp, nel canale 208 della piattaforma a pagamento, trasmetterà l'intero weekend dedicato alle gare a partire dalle prove libere di venerdì 6 aprile. Con il commento di Guido Meda affiancato da Mauro Sanchini, sarà possibile assistere alle prove libere 1 e alle prove libere 2, in onda rispettivamente alle ore 15.50 e 22.00. Per quanto riguarda, invece, la programmazione di sabato 7 aprile, le prove libere 3 sono previste alle ore 15.50 mentre le qualifiche saranno trasmesse dalle ore 20.10. L cancelletto orario della gara sarà diverso rispetto alle abitudini, sia per questione di fuso orario che per evitare la sovrapposizione con la Formula 1, prevista per lo stesso weekend. Gli appassionati potranno, infatti, seguire il momento decisivo per la Motogp a partire dalle ore 22.00 di domenica 8 aprile, preceduto dal warm-up alle ore 14.40. Programmazione Motogp Argentina 2018 su TV8. I non abbonati a Sky avranno la possibilità di seguire il Motogp Argentina 2018 in diretta e in chiaro, anche se in modalità ridotta rispetto alla piattaforma a pagamento. Non sono, infatti, previste le prove libere di venerdì 6 aprile e si passerà direttamente alla programmazione di sabato 7 dello stesso mese. Dalle ore 20.10 del sabato andranno in onda le qualifiche che sanciranno la modalità delle griglia di partenza della gara prevista per il giorno successivo. Come per Sky, anche su TV8 i piloti scenderanno in pista domenica 8 aprile alle ore 22.00, evento che sarà trasmesso in diretta. Nessun warm-up, invece, per i non abbonati Sky che prima della gara della Motogp avranno comunque modo di seguire la Moto 3, dalle ore 17.00, e la Moto 2, dalle ore 18.20. Tag si rinzitiamo in pista domenica 8 poichone 20.00 Grazie a tutti.